La posizione dell'Italia nei confronti del conflitto ucraina-russia è nota, così come noto l'impegno del ministro Meloni in Ucraina, l'accordo bilaterale Italia-Ucraina che vorremmo comunque conoscere meglio nei dettagli e questa è anche poi la posizione, parlo dell'Italia, anche della Unione Europea, sempre per quanto riguarda il conflitto ucraina-russia. Ora, possiamo essere d'accordo, non essere d'accordo e lo sappiamo benissimo, sta di fatto che l'inciso che il presidente Zelensky dice, ma da voi, riferito all'Italia, molti fan di Putin, stiamo preparando una lista, francamente mi lascia perplesso. Mi lascia perplesso perché mi chiedo con quale motivazione un paese straniero ridige una lista di cittadini italiani, dico a questo punto, considerati, si dice, putiniani e che cosa dovremmo farcene di questa lista, visto che in Italia, a prescindere, abbiamo comunque tutti la libertà di manifestare il nostro pensiero, sì per l'Ucraina, sì anche per la Russia, lo sappiamo, ci sono dibattiti. Va bene il dibattito, va bene la contrapposizione, vanno bene le idee diverse, ma che un paese, francamente, ci dica, stiamo preparando una lista da consegnare all'Italia o anche ad altre nazioni per fare che cosa nei confronti di chi in Italia è contro l'Ucraina, è contro il conflitto, ha delle responsabilità da dare all'Ucraina e non alla Russia, libertà di pensiero, ma che francamente ci venga imposto da un paese straniero, non ritengo sia una proposta accoglibile.